Hanno dato un'amazzata alla nostra economia, alla nostra gente, alla gente che sperava di uscire dalla nomea che purtroppo ha legge sul nostro comune. Parole cariche di amarezza, quelle dell'ormai ex sindaco Pino Morello che dopo tre anni di amministrazione decade dalla carica di primo cittadino di Limbadi a seguito del decreto di scioglimento firmato nelle scorse ore dal ministro dell'interno Marco Minniti. Presunte infiltrazioni mafiose alla base del provvedimento. E oggi mi paragonano, mi affiancano alla famiglia che ho sempre combattuto in tutti i modi. La mia famiglia ha pagato, ha pagato caro e adesso paga la cittadinanza. Sindaco, che idea si è fatto? Perché gliel'hanno sciolto questo comune? Perché sono comunista, sono comunista solo per questo, perché mi sono ribellato alle forze occulte che gestiscono il potere. Non un fulmine a ciel sereno per l'ex primo cittadino del paese del Vibonese che stamattina ha ricevuto la notifica del provvedimento. Lo raggiungiamo nella sua casa di Limbadi affollata dagli uomini della sua giunta. E c'è pure l'ex assessore Domenica Gurzi, lei che pur non indagata era finita in un'informativa dei carabinieri. Diciamo l'assessore mafioso, così mi hanno giudicata. Per cui sono arrabbiata anche perché noi eravamo una bella amministrazione, era quello di cui il paese aveva veramente bisogno. Mimma è un'eroina, non è una persona normale. È un'eroina e la vogliono infangare, non lo permetteremo mai. Da pur di fare carriera si fanno le cose false, però stavolta pagheranno perché le denuncio io. Il ministro Menniti da buon calabrese può vantarsi, continui pure a parlare dei migranti e combatta la mafia aiutando la mafia. Così arriveremo lontano, caro ministro Menniti. Combatti la mafia dando aiuto alla mafia. Cristina Iannuzzi per la C News 24.